Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sono Luca Mariani e oggi continuiamo con Button Arkham Knight abbiamo liberato la pianta, ce l'avamo lasciata appunto qui, dovevo solo premere per più tempo il radar quindi la pianta di Eevee o Ivy andara ha fatto queste pianta per produrre Ivy, ecco, la pianta che appunto produrrà appunto le sfore contro, come antidoto contro le sfore invece di Train, il nostro rivale nemico si riteniamo a vada ragazzi miei si destreggiamo un po' con il miglior combattimento, il sistema di combattimento ragazzi che abbiamo sul videogioco mi raccomando ragazzi, ho in mente anche adesso di fare qua, verso il prossimo inverno, anche delle nuove sezioni al mio canale riguardanti il Messico, quindi il paese che visiterò prima proverò anche a fare alcuni video con la nuova moto acquistata al Suzuki V-Strom, prova su strada adesso mi sto un po' organizzando a comprare tutte le telecamera GoPro, insomma, tutti gli accessori tali per poterlo fare perché ancora non lo posso fare comunque, ecco, ho in mente anche altre cose sul mio canale quindi ragazzi iscrivetevi perché non è che troverete solo gameplay ma troverete vlog, vlog di miei viaggi e oltre a ciò ragazzi anche alcune prove su strada, di auto, moto ma è una cosa che mi è venuta in mente ho visto che i prezzi della GoPro adesso si sono abbassati tantissimo siamo su 200-300 euro per una telecamera un po' bonina quindi è possibile ragazzi, è possibile farlo senza spendere una fortuna ma ovviamente ci deve essere anche il vostro appoggio perché altrimenti è inutile, cioè, me le vivo le esperienze da solo se non c'è comunque un appoggio da parte vostra è inutile che vi abbia spendere soldi per portarvi le cose se poi appunto non c'è commenti, non c'è interazione gameplay sì, adesso ovviamente fin quando non viaggerò di conti gameplay e niente ragazzi, ok, ce l'abbiamo fatta ecco la cortina, quindi ormai è giunta l'occhio proprio allettamente perché sti giorni di pioggia, di freddo, siamo ancora in estate ma la distanza dall'equatore è tutto io vi sto parlando dalla provincia di Ravenna nord est Italia, non è proprio dei migliori bene ragazzi, continuiamo ancora con il nostro gameplay che cosa dobbiamo fare? non ho ascoltato perché stavo parlando con voi quindi vediamo un po' cosa dobbiamo fare allora, 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 allora e missioni... qua c'è una missione distruggi il reticolo difensivo del cavaliere di Arkham su Founders Island per consentire al Boatwing di cercare un ubifragio va bene, va bene, va bene, quindi cercheremo... stavo giusto chiedendomi quando sarebbero arrivati i denti ok, quindi direi di raggiungere quella zona non troviamo troppi problemi si, se ne infettiamo sono delle missioni secondarie ragazzi quindi uso il sonar ma scusate allora dunque, dunque, dunque lassù no, non volevo entrare, scusate, nell'auto stavo cercando un punto per andare sì, secondo me dobbiamo andare su poi vediamo un attimo allora, 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 allora dovrebbe essere qua l'entrata? forse sì penso di sì almeno così ci dice l'indicatore apri è laggiù a progettare la sua vita con Barbara staranno pensando come chiamare tutti i pipistrellini che avranno che ragazzo fortunato eh, Joker rompe un po' i congiuncelli anche da morto eh, glielo dovremmo dire non ancora devo concentrarmi sulla cura ragazzi commentate, condividete ripeto, iscrivetevi anche al mio canale per seguire gameplay e non solo ho tante novità in arrivo ragazzi sto già architettando progettando tante novità anche per svecchiare di fatto il mio canale che è nato per tutt'altro come potrete vedere e vediamo, dai vediamo di riuscire a fare qualcosa di buono spendendo, ecco non troppe centinaia di euro e vediamo ok, questo è Robin usa il BAT computer usa il BAT wing per una scansione termica a basso livello è impossibile, Sir Founders Island è protetta da due torri radar collegate a un lanciamissire a lungo raggio non riuscirà ad avvicinarsi con il BAT wing e nemmeno con la Batmobile temo posso distruggere le torri radar a piedi se riusciremo a disattivare i droni che le proteggono beh, ci sarebbe una possibilità ho individuato un drone speciale che sembra agire come snodo di smestamento di tutte le comunicazioni se riuscissi a prendere quel drone si potrebbero riprogrammare i protocolli di sicurezza per darmi modo di manomettere le torrette radar questa è una possibilità, Sir però sembra pericoloso eh, come sento un po' pericoloso è l'unico modo che ho ti farò sapere ecco non ho ancora sentito Barbara fidati Robin sta bene mi serve concentrato sulla cuna solo è morta ma sta bene certo, so dove trovarti caro amico che definizione ragazzi sto gioco guardate anche i capelli la faccia tutto parla con Robin abbiamo già parlato allora 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 posso gestirlo spero che sia così oh chi è questo caro amico qua parla con Albert King oh allora vediamo un po' cosa ah qui è all'interno quindi verosimilmente dobbiamo uscire credo davvero che gliel'avresti detto totale sincerità come condorsi abbiamo detto che sta bene non voleva la pena dispezzarlo anche se è morta distruggerlo più tardi una vera mossa alla joker eh ti copriamo bene ragazzi allora andiamo all'altro obiettivo qua distruggi il reticolo difensivo del cavaliere di Arkham su Founders Iceland per consentire al boat wing di cercare il nubifragio plana sul drone di trasmissione ed esaminalo per trovare un modo di sconfiggere i droni non so vediamo un po' sta missione non ho ben capito planare sul drone di trasmissione concentrati sull'eliminazione del cavaliere di Arkham sarà il tuo campo se facci il nennio cacchio proprio qua sotto direi di fregarmene ma che cacchio ci sta facendo fare ah ma ci sta facendo seguire il carro ma quanto va carro tra l'altro io ma che cavoli mi m A presto! Non lo riusciamo a immobilizzare? Possibile? Oh sta! Una ce l'abbiamo qui Eh, ne restano due però Andiamo a prenderlo Ma dov'è? Fesco? Fesco? Oh, più difficile Non riuscire a fermarmi Non è andato È là Come non ti fermerò? Ti sto per fermare, caro amico Ma va? Ancora nulla? Sei duro a morire, caro amico Eh Cacchio C'è scappato Dove va? Continua a seguirmi Per te finirà molto male Dai Olè Bene Dash Ho distrutto un blindato della milizia E arrestare il conducente e rinchiudilo al commissariato Allora Dunque Facciamo un upgrade Intanto che Io penso che ne abbiamo già guadagnati Di Direi in lotta Aumenta il tempo Di compugnare un'arma da mischia Questi tre Metti immediatamente con un nemico armato di lame e altri oggetti taglienti Beh, proviamo questo E Poi Per quanto invece riguarda la mappa Allora Io ho messo l'indicatore qua E ok Direi che possiamo andare Speriamo di non trovare altri nemici lungo la strada Perché vorrei andare alla missione principale Per evitare anche di fare un gameplay lungo Un attimo solo ragazzi Che è qua? Eh, io gli sparo perché non so che altro dobbiamo fare Sempre meglio questo lavoro che sminare strade in Kunak Ok, ma sicuro Qua Prima Niente? Eh Non so ragazzi Comunque boh Andiamo avanti Qua non possiamo andare No Non possiamo andare con la nostra Batmobile Quindi verosimilmente andremo A piedi O volando È giusto che Batman faccia Ragazzi, Gotham City veramente fatta bene Tra l'altro tutta percorribile Quindi io direi ragazzi che Un applauso alla Warner Bros Che ha prodotto questa Questo capolavoro Non so perché Eeeh Ti ho sentito parlare È stato così terribile Oh sì Lo spaventa passere che è stato Batman E l'ho reso ancora più pericoloso E l'avrebbe avuto Che Batman si era trattenuto Fin' ad ora Allora Io dovrei Eeeh Sicuramente non ho ancora capito bene Quello che devo fare Eeeh Batman non troverà il dispositivo l'ubifragio Non può perlustrare l'intera città in tempo Saprà dov'è quando sarà giunto il momento Andiamo in una posizione ancora più elevata ragazzi Perché voglio Cacchio Attenzione Ci hanno visto Lo sapevo Cacchio Però Eeeh Ho visto un paio di tizi E saltare una banca Potrei mettermi in borghese E unirmi a loro Scusate Come faccio a sorvolare quel drone? Un attimo solo eh Distrugge reticolo difensivo Plana sul drone di trasmissione Ed esaminalo Devo planargli sopra Da quello che Ci dice la nostra Ma dov'è il drone? Voi vedete il drone ragazzi? 190 metri Qua È lì il drone Dai Cacchio Sapevo Lo sapevo Trovavo dei nemici Abbiamo potenziato un po' Il combattimento Quello grosso È più difficile Aia Dai Fuori Dai Ok Bene Bene Faccio qualcosa Ma qui non dobbiamo far nulla? Eh ragazzi Devo planare sopra quel bagaglio là A quel drone Ehm 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 Sai che ha fatto Parma sul dirigibile? So tutto Ho visto i ragazzi Quando l'elicottero medico è atterrato Uno di loro è riuscito a stento A chiedere la morfida Vediamo un po' Quello è il drone Dai Ce la facciamo Se riesco a recuperare il chip di comunicazione all'interno di quel drone di trasmissione Potrei riuscire a disattivare Ma scusa Olè Finalmente Siamo riusciti a planare sul drone Con un po' di fatica Tipo una grande candela Quella Che è Mi raccomando ragazzi Lasciate un like Un mi piace Se sostenete comunque la serie Se volete che continui Disattiverà per un po' i droni A portarvi la serie Disabilità dei presistemi Va bene Ehm Quindi Distrugge la rete di radar del cavaliere di Arkham Non sarà semplice ragazzi Ma Proviamo 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 Allora L2 Qua Devo distruggere il radar Prima che i droni tornino operativi 50 secondi Dai Il gel esplosivo È questo Ok Utilizziamo il gel esplosivo Ne abbiamo anche un'altra Aspettiamo ancora Era l'altro Però Però Non possiamo perdere questo radar È l'unica cosa che gli impedisce Riportare quel carro armato sull'isola Allora Disattiviamo Anche Ok Ok Andiamo Dai Dai Prima che arrivi Aia Immaginavo La dura Dai Ragazzi Il sistema di combattimento Veramente Uno dei migliori Dai Ragazzi Mi raccomando Attivate anche le notifiche Per vedere i nuovi gameplay E non solo Appunto come ho detto In apertura di video In mente anche Nuove sezioni per il mio canale Che nei prossimi mesi arriveranno Sia per Di Medi di locomozione Su strada State tranquilli Che arriveranno Mi ci vorrà un po' di tempo Per organizzarmi Ma Voglio svecchiare un po' Il canale Dare un po' di linfa nuova Per stare in tema Ah Bruce So come ti senti Per quel cavaliere da strapazzo Esattamente Come mi sento io Per quei finti Joker Agli studi cinematografici Ci può essere Un solo Joker Batman E solo Ah si E solo tu Sei tu Ok noi Ora facciamo la cosa giusta Massacriamoli tutti E purificiamo La stirpe di Joker Eeeh Ragazzi dov'è? Ma Scusate Non lo Non capisco E' qua Ah Eccolo qua E' qua su Eh ma ci siamo sopra Involgere tutti questi civili Quello degli indovinelli Il nano bercio Sono come tante Mine vaganti Qua su Che cacchiolina è ragazzi? Qua sotto Ah è più sotto E' qua sotto E' qua sotto Come entriamo? Da qua? Da qui? Dai ragazzi Come si entra? Eh ho capito Ma come Da dove Usa Qui Forse Si aprono Si Oh Posso usare L'infiltratore remoto Per disorientare Temporaneamente Ok Possiamo fare Da qua Si Allora Infiltratore remoto Enigmatico No E' enigmista E' solo certo Cos'era uno scherzo Quello lascia indizie Sulla scena del crimine Non l'indovinata Ok Megiamole Qua Questi non ci danno più fastidio Sì gel esplosivo Qua E Diamoglino un po' E distruggiamo anche il secondo Ripetitore ragazzi Un bel like per il secondo Ripetitore distrutto Avvisiamo il nostro Alfred Il nostro macetomo Una volta neutralizzato Il Batwing potrà cercare il dispositivo Nubifragile Ci sto andando adesso Bene Elimina il lanciamissili A lungo raggio Allora vediamo un po' dove Rivane qua Poi non sarà La cosa più semplice di questo mondo Però Se la possiamo fare La Me lo indica Svolazziamo un po' Qui la pioggia è sempre incessante Notte e pioggia Notte perpetua Vediamo se ci sono dei nemici laggiù Eh sì è pieno di nemici Lo dice sempre anche il cavaliere Avete fin troppo rispetto per Batman Credi che finora abbia avuto soltanto fortuna Già E quella Sta per finire Un cosi minchioso Vediamo se ce ne sono Un altro qua Dai Dai Ok Ok Un fumogeno per Mori Mori no ma Ancora Qui non possiamo fare nulla No Qua Mi stavo giusto chiedendo Quando avresti provato questo trucco Nessuno resti da solo La notte coppia Trovatelo Quante coppia Non potete Se ne è uno Vediamo come sta Qua Sta scappando Stiamo gli addosso C'è un altro Ok Nessun problema No Ce ne sono altri Dove Ah è lì Le Altri Gamma 4 Situazione Gamma 4 Mi ricevi Signore Va verso lo scudo difensivo La corazza sul lanciamissili È troppo spessa Perché io possa penetrarla Mi serve qualcosa di più potente È protetto da uno scudo difensivo Posso abbassarlo dalla sala di controllo Ok Come immaginavo Sala di controllo È là Quindi Riusciamo a aprirla Sta porta Sì Eccola qua Uso il computer Manterrò il controllo Della stanza E farò arrivare L'auto da remoto Non posso lasciare Che non inizia Torni qui E riattivi le difese Allora La nostra auto La dobbiamo Portare lì da remoto Devi abbassare quei ponti Ma certo sir Vedo che sta sfruttando appieno Il sistema di guida remoto Della Batmobile Ok Quindi la guidiamo da remoto Quindi senza pilota Dalla distanza Signore Batman sta abbassando I tre ponti Per Founders Island Aia Quanti nemici Quanti nemici Di spiegate l'unità delta Sua posizione del bersaglio Ora Sì signore E la Batmobile signore Attivate la squadra Cobra Distruggetela Ok Cobra disattivo Ho del supporto in zona Lo mando subito Via 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 Aia Qua Via 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 Eh ragazzi È dura qua Doviamo cercare di aggirarli Dai No Dai che sta arrivando l'altro L'ho perso Siete in superiorità numerica Sniratelo Ok Ho perso un drone signore Inviate rinforzi Via 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 Cavoli Cavoli Ce ne sono ancora tre Ragazzi Dai Dai Siamo dal di dietro Dai 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 Un altro Qua ce n'è un altro Dai Non la prende Non la prende Non la prende Vai Bravo Vai bravo Giocher Usa il radar per avvicinarti Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Vuole usare l'auto Per distruggere il lanciamissile E attivare la squadra Cobra Troviamo Allora Chi ci spara Là ce n'è uno ragazzi Dai Dai Andiamo via da qua Restano quattro Cobra Allora Uno è qua Dietro Quindi Dov'è Ressimilmente Non puoi restare nascosto Infatti Sono qui dietro di te Questo è la mia Allora Siamo di qua Allora Uno è là Ah è laggiù Sta venendo su Diciamo che venga su Bravo Ok Andiamo di là Ragazzi Solo due Aspettiamo che fassi No Ok Ok Dai Dai Questo è l'ultimo Muori Bene ragazzi Ce l'abbiamo fatto Ora di eliminare il lanciamissile Va bene Ora di eliminare il lanciamissile Ah Dobbiamo andare lassù Come se andiamo lassù Da qua Ma che strada mi sta facendo fare Ok No Aspettate ragazzi Devo prendere Devo distruggere il lanciamissile Ho capito Ma come faccio Andare lassù Ma secondo me E Quindi ci può Alzare Lancia Lancia Vericello Elettrico Ah ecco Adesso si Altri Mi hai preso Ok ok Mi arrendo Dove è andato Alzate la scuola che facevo Ma prendiamo tutti i punti di accesso Quindi Ah su via Vi ha sentito arrivare Da un chilometro Quelle orecchie a punta Siamo in tabella di marcia Tu Chi sei Non ancora Cavaliere oscuro Eh lui Lui sparisce Quindi Ahia Ahia Mannaggia Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Dai 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 Mannaggia Ragazzi Siamo morti Malamente Riproviamo Sei morto Oh aspetta O altrimenti Anche ragazzi Direi di Di terminare qui Il gameplay E magari Di proseguire Nel prossimo gameplay Questa Quest'altra Unteriore parte Della storia Anche per non fare Un gameplay Troppo lungo Ragazzi Se comunque Vi è piaciuto Lasciate un like Un mi piace Un mi gusta Anche per tutte le novità Che introdurrò Prossimamente E ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao Ciao